Bella raga bentornati in questo nuovo video, oggi ragazzi siamo nello speciale 50.000 iscritti e andrò a fare una nuova grafica alla mia tavola Ovviamente non la userò questa tavola, so che ho già fatto un video tipo questo col penny, dove ho fatto il penny dell'off wipe Ho usato il rosso e il bianco, anche oggi dovrò usare il rosso e il bianco perché il rosso e il bianco sono i colori di youtube e io voglio usare appunto i colori di youtube So già che oggi la mia camera diventerà un casino dopo aver registrato questo video ma fa niente Ok, iniziamo subito da cartavetrare la tavola, comunque questa sarà la tavola che andrò a modificare Andrò a cartavetrarla tutta così almeno poi la vernice si attaccherà molto meglio Vabbè, la finisco bene bene e poi vi faccio vedere direttamente quando la sto dipingendo tutto il bianco Primo strato di bianco fatto, aspettiamo un attimo e poi ne diamo un altro Ok raga, ora che ho fatto questo passaggio devo prendere dei fogli di carta bianco e ricalcare la scritta, ovvero 50.000 Ok raga, questa è la scritta che andrò a fare sullo skate, ora dovrò semplicemente ritagliare il 50.000 e poi attaccarla sullo skate Il problema è che la tavola non era nuova e quindi è un po' crepata, si vedono i graffi, non è il top Vorrei poter collaborare con un'azienda che mi manda tavole nuove, gratis, tutte di legno, cioè senza nessuna grafica Quindi se c'è qualche azienda del genere che sta guardando il video, contattatemi, speriamo Ok raga, il 50.000 è andato e al contrario ma fa niente Stavo pensando di fare anche un piccolo cerchietto Ok raga, ho appena deciso che la scritta sarà fatta in questo modo Ok raga, ecco qui, non so proprio come attaccarli bene alla superficie Perché non essendo adesivi non posso farlo Cercherò solamente di spruzzare il rosso dal più su possibile Cioè non dal lato così perché sennò finisce sotto Ok raga, questo è il risultato finito Solo un pochettino perché potevo mettere i sassi già dall'inizio in tutti Invece ho iniziato tenendo i fogli fermo Poi mi sono ricordato di sto metodo qui Sono sceso giù, ho preso dei sassi e li ho messi sopra Comunque raga, sono un cretino forte Perché mentre facevo tutto questo ho lasciato il telefono lì vicino Meno male che sullo schermo non si è attaccato bene il colore Perché sennò ero nella merda Ok raga, è arrivato il momento di togliere tutti questi fogli Vabbè raga, 50.000 non è affatto male A parte il 5 che doveva essere un pochino più dritto E mi piace anche il fatto che gli 0 non sono tutti perfettamente uguali In queste linee qui le dobbiamo rifinire bene Ora porto dentro la tavola e facciamo tutti i disegni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Raga, sono finalmente riuscito a concludere Sono le 10.45 Comunque raga, questo è il risultato A me piace davvero davvero un casino Penso sia la cosa più bella che abbia fatto in vita mia Ovviamente questa avrà un bel posticino Qua E niente raga Siamo arrivati ai 50.000 iscritti A metà dei 100.000 Non so cosa dirvi Se non... Grazie Grazie del supporto Grazie dei like lasciate Grazie dei commenti E grazie di tutto Comunque ragazzi Mi sono divertito davvero davvero molto a fare questa tavola Quindi Gli diamo nei commenti come fare un'altra tavola Magari ci farò altri video Bella raga Ciao Ciao